Ancora tre minuti di vita, calcio di rigore per il Milan, ancora Ronaldinho Giulio Cesar spegne la luce a San Siro Grande, grande Giulio Cesar, la partita Pecan, fallo di Cambiasso, si continua a giocare Sedorf ancora, la palla dentro, Borriano non ci arriva, Giulio Cesar Mamma mia che finale Che partita fallo, l'Inter venisce in nove, c'è un calcio di rigore che non c'era secondo me Perché è andato in protezione Lucio e Giulio Cesar ha negato il gol 46 e 15, segno di rigore, 3 minuti 11 contro 9 Clamorosa occasione buttata al vento da Ronaldinho Favalli